tanti like per capo bassone aga gaga gaga allora signori siamo in una situazione incredibile allora cosa è successo i nostri insieme a noi stiamo sfondando in maniera totale gli a 873 stanno tenendo a bada le cancellate questi qui sono grandiosi li stanno tenendo praticamente fuori vedete non li fanno passare e ovviamente cosa succede che qua è arrivato il nostro caro amico che c'era prima nel nostro regno perché ve lo ricordate proletariat eccolo era nel nostro regno il bello di mamma e guarda un po chi si vede è andato nel regno successivo nel 1874 e ha fatto un grande errore e ha fatto un grande errore vedete vedete amici che ha fatto un grande errore perché doveva restare nel nostro regno nel nostro regno si vince perché c'è capo bastone capito ma voi vi chiederete si ma capo bastone ma tu dove sei ti stai sciacquando i coglioni eh cari miei cari miei cari miei voi guardate troppo vicino vicino al vostro naso guardate qui dove sono io aiaiaiaiai sono in una situazione guardinga sono nascosto nelle frattaglie e tra poco cari amici daremo sfogo alla creatività guardate quanti bimbi minchia che ci sono qua daremo sfogo alla creatività questi ovviamente sono tutti farmer perché vedete carano veramente veloci quindi sono farmer ce li facciamo tutti chiaramente e cari miei capo bastone è un figlio di puttana eh è un figlio di puttana quando ci si mette capo bastone occhio a quello che fate bimbi minchia non fate casini bimbi minchia praticamente vedete adesso dovete stare zitti eh perché io mi voglio fare tutta una falciata sperando che non mi seguano se mi seguono devo scappare però qualcosa riusciremo a fare certo qua serviva cao cao però purtroppo cao cao ragazzi non è skillato no quindi non è come pelaggio perché ragazzi pariamoci chiaro pelaggio è 49 su 50 5 5 5 5 5 5 cao è 3 2 2 1 ed è 41 quindi per quanto veloce sia forse è meglio ancora pelaggio nei combattimenti metti caso che si dovesse trovare una situazione strana e adesso incomincia lo show cari amici comincia lo show poi se non mi beccano voglio andare su eh ma non so come andrà a finire speriamo bene io cerco di farmeli tutti e basta adesso vediamo questo qui 874 e adesso vediamo adesso vediamo che succede 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 e champagne e champagne questo 874 via 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 gaius marius taccheta adesso adesso partiranno le scautate guardate adesso partiranno le scautate guardate guardate questo qui cos'è? Uh, un altro 874 Oh mio Dio, sì Sì, dai, dai, anche tu ne vuoi La mia spada Oh sì, prenditi il mio spadone Quanto abbiamo fatto? Fammi vedere che io devo godere Oh, 28.000 Oh, godo, godo come un maiale 28.000, godo Poi, vediamo Richiamiamo e andiamo ovviamente Di qua, dove vai, dove vai Che c'è ancora tanto divertimento, dove vai A questo qui quanto gli abbiamo Oh, 22.000, sempre la stessa tizia Champagne Eh, stavolta l'infiltrazione è riuscita Stavolta, ragazzi Stavolta finisce male A schifeo venisce Stavolta a schifeo venisce Perché Capobastone non è chi combatte in prima linea Capobastone è un Black Ops Capito? Quando voi parlate con me Dovete dire Capobastone Black Ops Ci insegni la sua strategia Eh, ragazzi, la strategia è quella Di Mao Zedong Eh, calma, sangue freddo Ragionare E poi, ovviamente Sai, bisogna usare l'intelligenza La testa Questi sono bimbi minchia Shoppati Io uso la testa Io sono free to play Capito? Oh, qua ci divertiamo Oh, no, poveretta Sempre la stessa Gli sto facendo le farm Gli sto facendo Questa qui non è collegata Se no mi faceva Mi mandava di tutto Mi mandava Oh, guarda che bel ragazzone Che c'è qui Minchia, questo è pieno Madonna, questo è pieno Cazzo Cazzo, questo qua Ci avrà un centinaio di cazzo Cazzo, questo è pieno Dio caro Madonna, questo è pieno Questo, ragazzi, è pieno Questo è pieno Questo è pieno Questo è pieno Questo Mamma, 39.000 morti Oh, my God Oh, my God Perché aveva L'ospedale pieno Oh, my fucking God Oh Wow Non ci No Mamma mia Cosa sto No Madonna Madonna Cazzo Cazzo Incredibile Cazzo Cazzo sto facendo Un massacro Cazzo Cazzo Che roba Minchia Che infiltrata Dio bono Madonna Ancora non è finita Perché Adesso arriva Adesso arriva lo show Adesso arriva lo show Mamma mia Qua Mamma mia 15.000 Puttana Troia Cazzo Cazzo 15.000 Cazzo No Vabbè Qua Madonna Mamma mia Oh Mamma mia Oh My fucking God Oh My God Mamma mia Ragazzi Cosa sto Falciando Qui Gesù Cosa sto Falciando Qui Mamma mia Vi ricordo Ovviamente Che siamo qui Siamo dietro Behind the enemy Lines Siamo Mentre i nostri Combattono Qui sono Behind the enemy Lines Mamma mia Cosa sto Facendo Qui Ragazzi Cosa sto Facendo Qui Mamma Di Dio Cosa sto Facendo Qui Mamma Mia Mamma Mia Stavo già Andando Perché C'ho Troppa Fretta Se riesco Ad arrivare Dall'altra Parte E nessuno Di questi Online Mamma Mia Mamma Mia Vediamo Oh Oh My God Oh My God Questo 874 Quello che stiamo Combattendo No Sì Ok Sì Forse Sì No Ok Ah Questo è Quell'altro Che sta Facendo Di là Ok Ce lo Ce lo Spacchiamo Di qua Allora Oh My God Tanto qui stiamo Stiamo ancora Combattendo Bravissimi Qua nessuno Ancora mi ha Scautato Vediamo cosa Gli abbiamo Fatto a questo Puttana Puttana Troia Cazzo Cazzo Che bombe Cazzo Che bombe Mamma Che episodio Ragazzi Dio Ma come L'ha messa Dentro Va là Dio Dio Cosa c'è Qua Cazzo Cazzo Incredibile Cazzo Cazzo Incredibile Porca Puttana Non ci credo Mamma mia Cosa gli stiamo Facendo Mamma mia No Vabbè raga 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 Qui 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 addio Qui proprio Mamma mia Cosa gli abbiamo Fatto Cosa gli abbiamo Non ci credo E ancora E ancora è lunga Ragazzi Io Io non so Questo episodio Mamma mia Rimarrà Negli Annali Proprio Una delle giornate Di guerra Gli ho causato Una 40.000 morti A quella tipa Di prima Porca Figa Pelosa Nessuno Si è ancora Accorto Di me Questo qua Chi cazzo È Shushu Tu cazzo Questo qua Potrebbe essere Online Però dall'altra Parte Shushu Però non Combatte Shushu Adesso ti faccio Combattere Io Bello Di mamma Bello Di mamma Ti faccio Combattere Io Bello Di mamma Boom Adesso Andiamo Dai Mamma mia Cleop Questa no Questa è Costanza Non è Cleopatra È Costanza Oddio 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 Cosa gli stiamo Facendo a questi Qua Gesù 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 Di Dio Cosa gli stiamo Mamma mia Che falciate Madonna 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 Cazzo Oh Gesù Gesù Cosa gli stiamo Facendo Mamma mia Mi faccio No vabbè Dai Dai raga Dai raga Non ci credo Vediamo che succede Qui Vediamo qua 97.000 Sono riuscito A intrufolarmi Vabbè Questi sono gli scout Nostri Oh My God Mamma mia Cosa sta uscendo Da sta roba qui Non ci posso credere Nessuno mi ha ancora Scautato Qui Questo è Su 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 Sono tutti di su 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 Tranne questa qui Gli faccio un'altra morti Gli faccio altri Centinaia di morti Sicuramente E Adesso vediamo E Mamma mia Mamma mia Cosa stiamo combinando Mamma mia Cosa stiamo combinando qui Mamma mia Qui stiamo combinando I danni I danni Stiamo combinando I danni Tremendi Ragazzi I danni Tremendi Stiamo facendo Io Guarda Guarda Parto Parto da qui Poi basta Qui non ce n'è più Ok Dopo vado su Non ci posso Mamma mia Mamma mia Cazzo Tutto 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 quello che c'è Da falciare Glielo sto falciando Non ci posso Credere Ragazzi Non ci posso Credere Cioè stiamo Facendo I danni Ma sapete i danni Cosa vuol dire I danni Ma quelli veri Ragazzi qua stiamo Facendo i danni Adesso vi faccio vedere I report Ne avete visti Cioè quella lì C'aveva l'ospedale Pieno 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 Le sono morte Le truppe Da quanto aveva L'ospedale Pieno Io ragazzi Dopo faccio un conto Vediamo un attimo Porca puttana Cazzo Che è incredibile Avete visto che roba No Ecco vedete Io sono un black ops Ma non è che Io mi definisco black ops Perché voglio fare il figo Ma perché ragazzi Allora Nella guerra No Io sono un amante Degli strategici Voi nel mio canale Non l'avete mai visti Perché chiaramente Gli strategici Ci sono su pc E io ovviamente Su pc Non è che gioco tanto Mamma mia 23.000 morti Porca puttana Madonna mia Cosa io Madonna 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 Cosa sta succedendo qui Cosa diavolo Sta succedendo qui Non ci posso credere Cosa sta succedendo qui Mamma di dio Mamma di dio Cosa sta succedendo qui Incredibile Incredibile Guarda Guarda Anche questo Incredibile 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 Guarda Incredibile Mamma di Dio Cosa sta succedendo qua Cosa sta succedendo qui Incredibile Mamma 26.000 feriti Madonna ragazzi Madonna mia Mamma mia Oh my fucking god Madonna Cioè ma voi sapete cosa sta succedendo qui Ma voi non ve ne rendete conto Dei morti Cioè io qua ho causato cadaveri Ragazzi io l'ultima volta che ho visto Ero a 600 Quando sono entrato nel KVK Ero a 6 700.000 Di uccisione adesso non voglio Neanche immaginare a quanto sarò Adesso andiamo su perché l'obiettivo è questo Ovviamente perché qui ci sono i farmer Di quelle merde e io ho l'obiettivo Voglio arrivare qua Uuuuh aspetta aspetta Però ovviamente c'è un segreto Adesso me lo insegno Vediamoci l'ultimo report vediamo che succede Oh mamma mia 36.000 morte Oh my god Oddio mio Oddio mio Allora praticamente no vedete c'è un coso qua Voi non lo cliccate subito no Perché se lo cliccate a lui gli arriva la notifica Che lo state attaccando Ma ci vogliono un bel po' di minuti Quindi cosa fate mettete Qua vedete nella boscaglia Così lui non se ne accorge Distante Distante Piano piano Non subito sotto Perché altrimenti se ne accorge E niente ragazzi Cosa vi devo dire Cosa vi devo dire Cioè abbiamo fatto Una strage Una strage abbiamo fatto Una strage E adesso ovviamente Lasciatemi che mi curo Ecco un milione e sette Li ho spesi pure io eh Perché pure io Somma li ho spesi Però somma Ho fatto Ho fatto i danni Ho fatto i danni Non voglio vedere quanti ne ho fatti Li guardo dopo I danni li guardo dopo Io adesso Il mio obiettivo Sapete qual è Solamente Adesso mi son portato dietro Allora in teoria Non dovrei no Però mi son portato dietro Un po' di soldati Non dovevo Perché altrimenti Mi rallenta la cavalleria Però Assolutamente C'è bisogno C'è bisogno Per Perché se no C'ho pochi uomini Non ce n'ho abbastanza Quindi ho dovuto Portarmi dietro Un po' di zavorra Quando combatterò E moriranno Tanto i soldati muoiono Perché Praticamente Sono Quanti sono 9000 Con un prossimo scontro Muoiono tutti Cioè Vengono feriti gravemente E dopo Mi muovo molto più velocemente Con la cavalleria Però adesso Al momento Devo Assolutamente Portarmi dietro Un po' di più Di soldati Perché adesso Li sto facendo Chiaramente E mamma mia Madonna Dio Cosa verrà fuori qui Ragazzi Cosa verrà fuori qui Io non ho parole Allora signori E' successo un coso Molto strano Uno dei nostri Mi sta attaccando Ma mi sta mandando I trabucchi Ma che cazzo Stai a fa' Ma che cazzo Stai a fa' Questo è un nostro alleato Cazzo Madonna Che sti Cazzo di lavori Che fanno Porca di quella puttana Io devo qua Devo fare le cose Ma guarda te Questo qui Che mi manda I trabucchi contro Ma che cazzo vuole Ma ce la fai Mi manda i trabucchi Ma ce la fai Io non so Che cazzo vuole fare Questo qui Insomma Mi sta mandando I trabucchi contro Ma io Che cazzo vuole Ma questo è proprio E' proprio Uscito fuori Di cucuzza E' uscito fuori Non lo so Che cazzo vuole fare Io intanto Mi inculo Mi inculo qua Il coso Di questo qui Che tanto E' un 874 Quindi Champagne Ecco Stanno attacando Mi stanno seguendo Cazzo Cazzo Incredibile Cazzo Cazzo Adesso vi faccio pure Questa Cazzo Comunque Bisogna usare Bisanzio Non c'è niente da fare Bisanzio Tutta la vita E' Praticamente Bisanzio No? Che sarebbe Dove cazzo è? E' questo qui No? Belisario Non Bisanzio Questo qui Tutta la vita Va usato Tutta la vita Perché è veramente Un top E' un top Non c'è niente da fare E' un top Ok Via Adesso possiamo Andarcene Abbiamo fatto Il nostro I nostri Oh Qua si stanno Moltiplicando Le frecce Ragazzi Vicchia Mi sta Cazzo Mi stanno seguendo Cazzo Cazzo Corri Corri Scam Corri Scappace Il Nemesis Ma io non ho capito Allora Vediamo cosa è successo Allora Disastro 22.000 Mamma mia 25.000 Disastro Ma io voglio capire Questo stronzo Cosa cazzo Vuole fare Perché mi sta Attaccando con 17.000 Io non ho capito Cosa vuole fare Questo qua Cioè Perché Ed è un nostro Alleato Guarda E' 73 AU E cazzo Gli AU sono nostri Ma ce la fai Sono questi qua Gli AU Ma che cazzo Vogliono fare Ma perché Mi attacca Ma poi Ma perché Ma io è questo Che non capisco Ma perché Ma poi dov'è Dove sono Non riesco a capire Dove sono questi Qui Qui stiamo arrivati Al tempio Quindi Va benissimo Adesso io Devo tornare in base Per evitarmi L'attacco di questo Stronzo Altrimenti È ovviamente Guarda Quasi quasi Io do una mano A questi qua Minchia di Aia Aia Questi mi stanno seguendo No no Io devo correre Via 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 Questi mi stanno seguendo Raga via via Mi stanno seguendo Raga scappa Cazzo Scappate Scappate Stanno arrivando Stanno arrivando Larrotino Scappa Bravi Questo ha già capito tutto Scappa Scappa Stanno arrivando Larrotino Scappa 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 zio Bravissimo zio Bravissimo Infatti Come potete vedere No La situazione È di intelligenza No Bisogna scappare Ci hanno molti Ci hanno belisario Vedete Perché è molto più veloce Tra un salto Ecco io invece Sono più lento E subisco Vabbè Però pazienza Tanto io Insomma Adesso Devo Devo Completare Comunque La mia missione L'abbiamo completata La grandissima Perché chiaramente L'abbiamo completata Top Poi Zampa Full Eh Zampa Questi mi stanno seguendo Zampa Full Beh Vi posso salvare Andando in zampa Full Aspetta Posso salvarmi qua Vero Minchia fammi fare Ma tu che strategia Madonna Ma che strategia Ma guarda come l'ha messa dentro Va là Dio Guarda Guarda che strategia Io rinforzo Mi rinforzo E vado qua Così scappo Se ce la facciamo Eh Champagne Dai 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 che andiamo in torre Dai che andiamo in torre Questo mi becca 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 Ah 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 Però non riesce a tenermi Eh Ah Bello mio Scappi eh Che danni che abbiamo fatto Che danni Che danni Madonna mia Gli ultimi sono 22.000 E questo qua 25.000 Mamma come Come mi infiltro io Ragazzi Come mi infiltro io E il che niente fa Come mi infiltro io E il che niente fa Non c'è niente da fare Come mi infiltro io Signori Non c'è niente da fare Signori Come mi infiltro io Eh il caro Il caro proletariato Mi sa che è scappato eh Mi sa che è scappato Mi sa che non ce la fa qua eh Ha detto Qua è meglio scappare Tiriamo le cuoia Tiriamo le tende Champagne Signori Missione compiuta Capobastone Ha perso praticamente Pochissime truppe Beh ero a 160 Più o meno Ne ho perse Praticamente pochissime Quindi Diciamo che È andata alla grande È andata veramente alla grande Io adesso torno in base Perché la missione è stata Veramente difficile È stata bella tosta Adesso ripariamo tutte le unità Mandiamo chiaramente Sette di questi Poi facciamo un po' di minutaggi E usiamo Tre minuti di questi qua E champagne E via Ok E poi curiamo le ultime Che sono state veramente Misere 3000 3008 Curiamole pure queste In teoria non ci dovrebbe essere bisogno Di power up E mamma mia Cosa abbiamo combinato qui Cioè ragazzi Io vi faccio vedere Le ultime cose Allora Praticamente Togliamo questa battaglia Che vabbè Ok no Togliamo Guardate Allora Guardate Allora La cosa è iniziata 29 minuti fa Guardate che roba Cioè io Non ho parole A questa L'ho distrutta Completamente Proprio distrutto Qua 39.000 morti Guardate che roba 15.000 morti Poi anche I feriti I lievi I lievi Non li contate Però i feriti Guardate che roba Guardate che Orca Puttana Droglie Porca 23.000 Questa qua Gli avrò causato 50.000 morti Minimo 26.000 I lievi No Perché sono quelli Che si riparano I feriti Gravi Dovete vedere Sono quelli Che necessitano Risorse Anche qua 16.000 Mamma mia Mamma mia E adesso voglio Vedere a quanto Sono arrivato Cazzo Io voglio Vedere a quanto Sono arrivato Ho paura Sono entrato Con 600.000 Kill Guardate quanto Sono arrivato Minchia 1.11.000 Porca Puttana Cazzo Minchia 1.11.000 Porca Puttana Porca Di Quella Puttana Oh Fuck 1.11.000 Morti I morti Carpestati Dal mio pugno Il nemico Aveva 5 dita Di controllo Per la spinta Dei bottoni Minchia Che cazzo Abbiamo combinato Signori Signori Io adesso Mi sistemo bene Cao Cao Facciamo un lavoretto Guardate Non dico Madonna 30 30 di punti Onore Abbiamo preso Puttana Vacca Porca Schifaladra Che cosa abbiamo sbloccato qua Porca Puttana Mi sono fatto 800.000 Punti Dio Bello Dio Porca Troia Un milione Puttana Ragazzi Ragazzi Io non mi posso No Non ci posso Fammi Fammi vedere Una cosa Aspetta Fammi vedere Allora A parte questo A parte questo Ma Io voglio vedere L'individuale Io non so Quanti Aspetta Dove cazzo Dove cazzo è che si vedea Porca Troia Ero a 6.000 Ragazzi Ero a 6.000 Cioè ho fatto 4.900 In questa operazione Da Black Ops Non vi dico altro Solo 1.596 Basta Non vi dico altro Beh Cari amici Ora vi saluto Tanti like Per Capobastone Noi ci rivecchiamo Al prossimo video E Mamma mia Mamma mia Che falciata Dio Bono Che falciata Saluti 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 Tanti like Per Capobastone Aga gagaga